Sono Caterina Meldolesi e ho partecipato a questo concorso Giulio Neri, il primo concorso in cui partecipo da quando è iniziata tutta la pandemia. È stata una bella esperienza perché ho sentito anche tantissimi altri colleghi di altissimo livello e mi sono divertita, mi sono goduta il fatto di tornare sul palcoscenico a cantare per delle persone reali. E niente, speriamo bene.